Tommaso Pasqua, presidente dell'ASP Castriota e Corsopoli di Chieuti, Sera Capriola. Cosa cambia all'ASP Castriota e Corsopoli dopo l'approvazione di due importanti progetti di innovazione sociale finanziati dalla Regione Puglia? Noi siamo stati in Regione per presentarli. Sostanzialmente c'è un potenziamento forte sul polo degli anziani e un potenziamento forte sulle disabilità. Quello delle disabilità riguarda appoggio imperiale ma riguarderà l'intero territorio dell'Alto Tavoliere e come quello degli anziani parte da Chieuti ma riguarderà l'intero territorio dell'Alto Tavoliere. Sono due finanziamenti del PNRR. Io ringrazio la Regione, l'assessore Barone e il capo dipartimento Valentina Romano che hanno voluto presentarli in assessorato perché queste strutture hanno una governance che vede la Regione parte principale e quindi noi abbiamo la necessità di interlocuire con la Regione, con la ASLO e con i piani di zona affinché i servizi siano diretti a queste fasce fragili dei cittadini dell'Alto Tavoliere. Oltre a questi due progetti che cosa si sta facendo in questi giorni, in questi mesi all'ASP? Io spero subito in primavera di augurare l'Opeficio, questo progetto che abbiamo avuto grazie al finanziamento di Fondazione con i Sud e grazie alla cooperativa che attualmente gestisce il progetto. Ci sono 5 o 6 pazienti dei Dipartimenti di Salute Mentale che stanno lavorando, producono un olio, Volio che oramai ha un mercato di riferimento abbastanza ampio e tradotto anche il marchio in lingua albanese avrà anche un mercato lì. Spero di riuscire ad inaugurare nel più breve tempo possibile anche la struttura dell'Opeficio per consentire di avere l'autonomia di trasformare le olive che raccolgono nei terreni di proprietà dell'ASP direttamente nell'Opeficio di proprietà dell'ASP e della cooperativa. Quindi si va oltre il sociale? Si va oltre il sociale, si cerca di mettere in piedi dei percorsi di autonomia delle persone che hanno le fragilità perché rendere autonoma una persona che ha le fragilità significa aiutarlo ad uscire da una dipendenza a volte che anche dei farmaci che è una dipendenza dalla noi, è una dipendenza dal tempo vuoto e quindi noi cerchiamo di riempire il tempo grazie alle professionalità che abbiamo a disposizione. E con il direttore generale dell'ASP Castriota e Cosopoli, Michele Ferro, entriamo più nel dettaglio di questi due progetti. Sì, sono due progetti molto interessanti, uno si svolgerà a Chieuti nella casa di riposo Anna Maria Zirillo, infatti è previsto anche l'ampliamento della struttura, infatti su Chieuti sono stati assegnati 2 milioni e mezzo di cui 1.210.000 euro serviranno per l'ampliamento. Si realizzerà un'altra struttura in adiacenza della casa di riposo dove saranno svolte anche le altre attività in futuro, mentre nel frattempo le attività saranno svolte nelle sali comuni, nella sala e anche presso il domicilio degli assistiti. Infatti il progetto Old Sweet Home si rivolge soprattutto agli anziani, agli anziani anche affetti da demenza senile e non solo, quindi praticamente loro svolgeranno attività presso la struttura e si terrà quasi come un centro diurno e la stessa cosa anche presso il proprio domicilio. Tra le tante attività è prevista anche una dimora temporanea per i soggetti che non hanno una propria abitazione oppure devono traslocare temporaneamente e quant'altro. Ci saranno attività per 30 mesi e oltre al servizio che sarà dato nei confronti degli anziani non solo di Chieuti ma di tutto l'alto tavoliere ci sono previste anche l'assunzione e quindi servizi e opportunità lavorative di circa 20 persone tra educatori, os, infermieri, ausiliari, cuochi e quant'altro. Direttore tutto questo a Chieuti, appoggio imperiale invece? Sì, appoggio imperiale invece sarà ottenuto un finanziamento di 2 milioni e 400 mila euro e lì le attività saranno rivolte ai ragazzi con fragilità e ai diversamente abili. Infatti abbiamo un centro diurno e una struttura residenziale che si chiama Cuore con le Ali, ormai in funzione da qualche anno e lì anche saranno svolte attività per 30 mesi e i ragazzi potranno avere una grande crescita perché doteremo la struttura e anche questo ci è stato finanziato di tecnologie importantissime sia per fare fisioterapia sia per fare teleassistenza e sia per fare assistenza domiciliare che residenziale verso la struttura.